ciccio come farai quest'anno senza i mondiali bella mia è appena iniziato il mondiale di calcio femminile e giocano le azzurre allora finalmente si tifa italia certo e magari vinciamo pure facciamo la spesa non voglio perdermi neanche un minuto e io neanche un'offerta dobbiamo vincere e ce la faremo ciccio i maxi formati di nikki sono in promozione come la carta igienica nikki fashion da 12 rotoli bella profumata e con quattro veli a soli 3 euro 99 io prendo anche l'asciugatutto nikki limone da 6 maxi rotoli in offerta a 3 euro e 99 ideale per tutti gli usi in cucina e con l'anima profumata al limone laura la linea felce azzurra per la cura quotidiana del corpo è in offerta sì ciccio il bagno doccia da 650 ml è a 1 euro 99 scopri tutte le profumazioni e sai qual è la mia preferita orchidea nera con la sua nuova essenza di mistero sunsic clare sono in promozione prova i nuovi trattamenti intensivi sunsic one minute wow combinano il nutrimento di una maschera con l'azione rapida di un balsamo li trovi in offerta a 1 euro e 90 e anche clare con tripla tecnologia antiforfora è un prezzo strepitoso allora ciccio com'è andata la spesa come la finale dell'82 un trionfo acqua e sapone è il campione mondiale del risparmio forza ragazze regalateci un altro titolo acqua e sapone oltre la convenienza